Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Altra settimana passata, siamo a un altro lunedì e cosa ci aspetta? Il video playing with me insieme alla vostra Nika. Come solito tutti i lunedì, con i saluti ve lo ricordo sempre sempre sempre, lo so, sarota per voi tante volte di ma basta, però c'è chi non lo sa e chi me lo chiede sempre e chi non capisce, allora lo diciamo. Allora, questa settimana, come avete intravisto qua, ho fatto, cioè ho fatto, andiamo a fare insieme, ho portato avanti il washi e ho messo questo qua con queste belle volpine che è questo che ho preso su Aliexpress un po' di tempo fa, ecco, e poi ho preparato dei disegnetti di volpine che poi vi faccio vedere dopo e andrò ad estrappolare, che bello, che belle parole. Da questi sticker, qualcosina, tipo la ghianda, qualche fogliolina, qualche ramoscello da mettere insieme alla volpina e niente, andiamo, cominciamo a mettere quello che sono le date e questa settimana è dal 28 al 3 febbraio e andiamo in febbraio. Ho detto, dai, stiamo sulla volpina, avevo voglia di fare la decorazione volpina, poi, appunto, se volete richiedermi ancora, avete qualche idea di qualche tema particolare, ho visto che qualcuno è arrivato ancora a chiedermi i temi. Allora, voi chiedetemeli, poi giustamente non è che li posso fare subito la settimana dopo, piano piano spero di riuscire a farli e a soddisfare tutte, perché l'anno scorso, in tutto il 2018, tantissime mi chiedevate i temi da fare della settimana. Qualcuno, sono riuscita a farlo, sono contenta perché sono riuscita a soddisfare la richiesta, però non a tutte, giustamente, perché è un tema settimana, non è che posso, voi chiedetemelo, poi, pian piano, la dica vede, se non ho già un programma o qualcos'altro, comunque, se riesco, più che volentieri, faccio il tema che mi chiedete, ecco. Però se avete voglia, appunto, nei commenti scrivetemelo, ecco, tutto lì, magari mi date anche un'idea, se c'è quella settimana che sono di corsa, non so cosa ti dare fuori, mi fa anche comodo, ecco. Allora, niente, 27, allora, 28, uso la stabilo marroncina perché, non so, mi sta bene il coloreino marrone. Andiamo a scrivere il 28, che è lunedì, ok, poi 29, martedì. Poi, il 30, che è mercoledì, poi il 31, giovedì. Abbiamo chiuso gennaio e adesso andiamo con l'uno, che è venerdì, il 2, che è sabato, aspettate perché mi sono dimenticata, ecco, ok, e ok, e poi il 3 domenica, è sempre sperato, si spera, relax, meritato, ok. Eccoci qua, adesso aspettate che coloro, come al solito, la mia scrittina, andiamo a prendere un bel marrone, in giro qua nel mio portapenne, guardate quanto è bello, ve lo devo rifarvi vedere, mica. Allora, andiamo a cercare un marrone, un marrone, un marrone, 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 eccolo qua, e coloriamo la nostra scrittina qua. Ok. Aspettate che adesso ce la posso fare. Eccoci qua. Ecco, poi qua devo un attimino cercare fuori un altro. Scusate, facciamo tutto in diretta, sì. Va bene, la mica è matta. Facciamo tutto, che cerchiamo un attimino, perché mi sono dimenticata. Prima ho detto, li prendo, poi sono andata a fare un'altra cosa, ho preparato un'altra cosa, non li ho tirati fuori. Adesso vi dico cosa, dai mica, cosa, cosa, cosa stai tirando? Ah sì, voglio farvi vedere questo, l'ho preso del cinese qua in parte a casa mia, vicino a me, c'è questi cuoricini a un euro, gommolini, tipo gomma crepla, eh. Poi sono arrivati questi fantastici unicorni, tutti in neon, sempre morbidosi. E poi, non potevo non prendere queste piantine, faremo qualcosina, anche le clipo qualcosa. Se avete voglia, ditemelo nei commenti, faremo un altro bel videoclip. Scusate, sto cercando tutto in diretta, tutto insieme a voi, ci sarà qualcuno che sparerà a manetta, che è... E, altronde ragazze, non mi va di spegnere e di riaccendere, perciò sopportate questa visuale di sticker, che magari a tante non dispiace. Stavo cercando, avevo in giro gli sticker festaioli, perché giustamente domenica 3 è il compleanno di Sharon e volevo mettere... Ah, che casino questa nica che c'ha, c'è troppi sticker, c'è troppe cose nica, c'è troppe cose, adesso scusate, prendo anche l'altra scatola, così vi faccio una leggera carrellata di... di collezione stickerosa. Ai, 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 se li trovo vedrai che non sono neanche qua quelli che volevo cercare di Tiger. Ta, 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 Tiger, ta, 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 Tiger, sopportatemi così. Sì, che bello questo Penny with me. Allora, aspettate, non voglio fare casini, ma mi sono alzata, scusate, un'altra carrellata. È pazza, è pazza la nica. La vostra nica è pazza, però sono sicura che sono qui in giro. Uffi, dovevo prepararmeli prima, no? Che testina che è questa nica. Guarda adesso cosa mi socca sta qua a fare. Non fa niente. La pazzoide. È pazzoide, lo sappiamo. Apriamo di qua. Che bello, quante cose che non mi servono. Cioè che mi servono anche, però basterebbe usarle. Ascoltate, facciamo una cosa. Facciamo così. E facciamo così. E poi questo è qua. Allora, non li trovo, non lo so. Scusate, adesso mi siedo. E andiamo avanti con la decorazione, poi ci ragioniamo. Allora, ho fatto questa volpona mega gigante, questa più piccolina, e poi quest'altra. Adesso andiamo ad attaccarle. Questa io l'attaccherei qua così. Questa grande. Se ci sta qui, non ci sta. Perfetto, nica, sei stata un genio assoluto nel preparare le cose. La facciamo così, che questa qua l'attacchiamo qua così, in mezzo, e queste due le mettiamo qua così. Quindi, proviamo a fare una roba del genere, sì. Cominciamo ad attaccarne una, poi vediamo. Vediamo cosa esce fuori. Anche perché poi mi sa che non ci sto con tutto... Con tutto quello che volevo mettere, perché... Ah, dovevo scrivere dopo che qua ci stava. Però se la mettiamo così, non sta male. Vediamo. Cominciamo ad attaccare un pezzettino. Così ci organizziamo un attimo. Ecco. Qua. Aspettate. Ok. Adesso andiamo ad attaccare tutto il resto. Eccoci qua. Così. La codonza. Della volponza. Ecco. Adesso ci attacchiamo anche l'altra parte della testa. Oggi sono proprio impedita a far tutto. Quando faccio le cose, ne voglio fare mille cose in una giornata, è così. Allora. Questa invece. La mettiamo un po' così. E questa un po' così. Sì, dai. Vediamo. Vediamo cosa fa insieme. Vediamo ragazzi. Se riusciamo a farcele stare. Allora. Quando ho tanto posto che lascio i giorni belli grossi, belli larghi, così. C'ho gli sticker e i disegnini piccoli, così. Quando lo spazio è poco, faccio i disegni grandi, così. Fa niente. Tutto il contrario. Pazienza. Tenetemi così. Allora, qua possiamo far scendere la codonzona qui. Così. Dai, questa accorciamola così. Infatti troppe grosse, non avevo calcolato che il posto era questo. Fa niente. Va bene lo stesso, dai. E questa ce la spiaccichiamo qua così. Poverina. In qualche modo. E poi lì ci attacchiamo qualche stickerino. O qualcosa, vediamo. Questa settimana va così. Tutto bello accalcato. Eccoci qua. Vediamo. Come possiamo metterla un po'. Così, almeno. Ecco, riusciamo a scrivere anche qualcosa. Perché se no, ah, eh. Non riusciamo a scrivere niente. Ok. Allora. La colla possiamo accantonarla. Adesso, prima di tutto, qua, sempre video agenda. Lunedì. Ok. Poi il 31. Io penso di fare giretto da Tiger. Vediamo, vi farò sapere. Se vedrete il video venerdì. Vuol dire che è già arrivata qualcosa dalla collezione di febbraio. Ci metto Tiger. Lo faccio giovedì. E poi, qua, scriviamo, compleanno Sharon. Compie già 13 anni, mia figlia. Mamma mia, se crescono. Crescono. Il 21 c'è il Jason. Che ne fa 12. Uh. Si invecchia qua la mica. Allora, aspettate che guardo un attimino. Se un giro qualcosa di carino nell'agenda di sticker. E vediamo. Altrimenti vediamo cosa possiamo tirare fuori di bello vediamo eh faccio aspettare ancora tanto per camminare aspettate che prendo fuori quelli del del bullet journal che c'era una ecco qua facciamo così semplice semplice con questa tortina dorata e poi prendiamo la penna dorata e scriviamo 13 che sono i suoi anni appunto che compie già Sharon eccoci qua ecco e dopo vedrò e vi farò vedere poi la settimana prossima come poi la la completo del tutto e vi farò vedere se aggiungo ancora qualcosa degli sticker che stavo cercando prima come una pazza però fa niente io direi intanto di vediamo con le volpine abbiamo fatto vediamo se riusciamo ad aggiungere magari qualche volevo mettere questa perché mi sembrava carina questa ghiandina qua così poi aspettate qualche tipo fogliolina qua o qualcosa del genere giusto per non avere solo la volpina e vediamo a parte questi fiori qua sembrano secchi poverini però sono bellini dai col marroncino ci sta bene perché richiama appunto quei pezzi marroni che ha la nostra amica volpe vediamo di qua questi no sono troppo colorati però magari dai anche due foglioline anche nel verde anche se non c'entra niente il verde ma mi sembra bello metterlo dai ma sta ancora registrando si mica sei proprio via di testa oggi completamente allora poi se riesco questa settimana volevo registrare il video della postazione finalmente perché me lo chiedete in tantissime e poi non so quando lo vedrete ma almeno riesco a registrarlo poi a metterlo almeno male poi volevo fare anche il video disegno con voi e spero di riuscirci perché tra una cosa e l'altra passa sempre la giornata e vola ecco comunque non preoccupatevi il video aggiornamento postazione arriva perché ho cambiato tantissime cose e devo farvele vedere anche io ci tengo niente io penso che questa come decorazione può andare con le nostre amichette volpi aspettate che adesso andiamo a metterla ah no scusate questo è per chiudere il gennaio così si potevo anche non chiudere l'anello e girare fa niente ve l'ho detto sono cotta sono fusa e poi qua così allora questa è la nostra settimana così 28, 29, 30, 31 poi divisorio di febbraio perché poi si va appunto in febbraio e si avvicina a San Valentino abbiamo l'1 il 2 il 3 abbiamo fatto tutto questo tema un po' volpine adesso andiamo a fare i saluti e vi ricordo sempre riscrivetemi se non vi ho salutato che lo farò lunedì prossimo allora devo salutare Maria Di Vivo ciao Chiara Cannone ciao Rob Pag ciao Mary96 ciao Vittoria ciao Giada ciao Giulia Azzolin ciao Galas ciao I'm Alice ciao Beatrice Cimmino ciao scusa stavo sbagliato poi Carlotta Vendola ciao Gavino ciao Eva Lo Zuppone ciao Aya Chnauar spero di aver detto giusto tesoro ciao e Giada a Zaro ciao un bacione a tutte buona settimana a tutte io col play with me vi do appuntamento a lunedì prossimo come tutti lunedì e in settimana non perdetevi gli altri video della vostra Nika bacioni a tutte ciao